Diamo la gioia di avere con noi in studio Douglas Wedraogo che vi presenterò tra poco che viene dal Burkina Faso. È stato nel 1919 e il Signore ha rivelato in America ai fratelli e alle sorelle che dovevano cercare la tribù di Morsi. Io sono della tribù di Morsi e oggi abbiamo 3.000 locali di culto e ringraziamo il Signore per i pastori che abbiamo. Abbiamo più di 4.000 pastori e ringraziamo il Signore perché oggi abbiamo più di 10 scuole bibliche dove vanno giovani per studiare. Sicuramente problemi possiamo avere ma vogliamo sempre ricordarci che il nostro aiuto ci viene dall'Eterno. Il nostro aiuto ci viene da Colui che ci ha creato. Il nostro aiuto ci viene da chi ha fatto il cielo e la terra e non c'è bisogno di spaventarci perché abbiamo la gloriosa speranza che un giorno Elì ritornerà. Grazie. 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 Grazie a tutti.